Per la candidatura a sindaco di Pesaro la spunta Andrea Biancani e per il Partito Democratico scegliere il consigliere regionale è stato il punto di convergenza di un proficuo lavoro di squadra partito da lontano, frenato dall'ipotesi di terzo mandato a Matteo Ricci e che ora coinvolgerà Daniele Vimini e Sara Mengucci nelle possibili strategie amministrative che si profileranno in caso di vittoria dopo la chiamata alle urne di giugno. Il percorso è stato lungo, c'è stato un ampio dibattito perché a un certo punto si erano ipotizzate le primarie, diciamo che è prevalsa la linea di lavorare per individuare oltre a un candidato anche un percorso da fare politicamente e chiaramente rivendichiamo questa conclusione come lavoro di squadra in cui in qualche modo vengono messi i riferimenti un po' per l'azione che sarà l'azione futura, che sarà amministrativa, che oltre alla figura del candidato sindaco di Andrea Biancani prevede il contributo e il rafforzamento del lavoro fatto dal vice sindaco e assessore della cultura Vimini perché in questo contesto della capitale della cultura era giusto e doveroso dargli questo riconoscimento e mantenere questo investimento anche in vista dell'attuazione di questo anno e delle ricadute che avrà poi sul futuro. Sono emerse diverse valutazioni nel corso di mesi, si è sempre tenuto un profilo molto costruttivo e anche teso a tenere un'unità del partito. Il ruolo che in qualche modo si è ritagliato a Sara Mengucci con la sua candidatura ovviamente ha dato a noi una forza aggiuntiva rispetto al lavoro fatto nel campo del sociale perché in questo modo connotiamo ulteriormente il lavoro amministrativo sul welfare che in qualche modo Sara se ne fa portatrice e in qualche modo diamo uno spazio e un futuro anche alla figura femminile all'interno di questa squadra perché su questo tema credo che sono importanti i lavori che dobbiamo fare in futuro anche in termini di servizi, di scelte strategiche e scelte diciamo programmatiche. Si è riconosciuti nella figura di Andrea Bancani come quella più adatta in questo momento storico a ricoprire questo ruolo e a affrontare questa campagna in cammino avanti che è una campagna breve ma intensa e che con la sua competenza, il suo entusiasmo e soprattutto l'entusiasmo di tutta una squadra potrà portare al migliore risultato e quindi dare anche una grossa continuità al lavoro importante che questi dieci anni di mandato hanno realizzato, anche gli obiettivi che hanno realizzato e anche come in tutti i casi naturalmente mettere anche un plus di freschezza, di novità e di idee che naturalmente a parte dal candidato sindaco e poi anche la coalizione potranno apportare.